bentornati dal mondo del collezionista ed è di conoscere un nuovo prodotto le web star cosa sono? sono dei tatac che dopo andiamo a approfondire meglio e riguardano le web star come c'è scritto di youtube italia e chi sono? andiamo a vedere c'è faij claus la sabri anima vegas ah no hanno invertito stepney e surry vabbè non fa niente questo è surry e questo è stepney questa è una collezione è composta da 7 bustine e in un box ce ne sono 14 se siamo fortunati ne possiamo finire 2 oppure è fatta apposta una bustina costa 3,99 euro e più c'è un magazine in cui dentro c'è una curiosità ma soprattutto questi sono tutti i chiamiamoli gadget e con sotto una frase la loro frase principale tipo claus viva la vita anima stay angry stay animals vegas we are all mates faij questa è carina ho più iscritti che capelli la sabri moribongi amici ciao amici la frase che dice prima di ogni video surry take it easy e seppri anche questa è molto carina essere pazzo significa essere guarito qui ti dice ogni cosa di ogni youtuber e qui ci sono i magazine andiamoli a vedere tutti qui c'è stepney qui c'è faij vegas di nuovo faij quindi vuol dire che già ce ne sono due la sabri klaus mettiamoli qua cosa nemmeno se abbiamo bisogno del fogliettino stepney anima favij surry anima anima di nuovo surry la sabri e l'ultima e vegas mi sa vediamo se ho visto male io ah no pensavo di avere ah no ci sono tre faij tre faij che cosa strana vabbè andiamo a vedere andiamoli a approfondire quindi io aprirai faij mi sembra più carina sono tutti bellissimi vediamo se ci riesca ad aprire ecco ecco questo è favij vediamo la bustina dietro c'è la sua frase ho più scritti che capelli favij mettiamolo vicino a lui e se vi come vedete funziona si attacca e stacca attacca e stacca e questo è il funzionamento del tadac e poi in ogni bustina c'è un codice con cui può vincere uno smartphone un smartphone go way p20 quindi ti danno questo e poi qua ti danno tutti e 7 i tatac e e se invece trovate la stella dorata potete fare un video messaggio alla vostra web star preferita e se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video con chi volete e dal mondo del collezionista è tutto grazie per l'affetto a presto e ciao